salve a tutti aspetta ah si ciao a tutti i telespettatori bentrovati con questo nuovissimo video come notate qui c'è un microfono e come notate davanti a voi appare il canale di manuel scrivani allora manuel scrivani è un ragazzo c'è un amico mio che ha deciso di fare lo youtuber ormai è un paio di mesi vediamo quando dal primo video in realtà sono passati 9 mesi si seguitelo perché appena fatto 12 iscritti ormai è un giorno che l'avrà fatti e vabbè appena sfornati questi iscritti perciò iscrivetevi al suo canale e se ancora non siete iscritti e niente io vi volevo consigliare questo canale in caso volete comprare questo vi lascerò un link in descrizione l'ordinerete se volete ciao